Ciao riceva frutti e benvenuti o bentornati nuovamente se tu invece non mi conosci ed è la prima volta che mi stai guardando il mio nome è Verenice e ti invito ad iscriverti a questo canale Allora, una di voi mi ha chiesto su Instagram vedo poi se vi lascio la scritta perché ho fatto domande e risposte su Instagram e quindi ho fatto un po' un sondaggio per vedere cosa volevate sapere di me e una mi ha chiesto visto che adesso inizia la scuola potrei vedere un video di come pettinarmi per la scuola come vedete io sono in questa condizione perché sono diciamo questa è la condizione in cui mi sveglio la mattina non vedete la cuffia di seta o di rasso perché dormo con la federa di rasso che per me è molto più comodo quindi per non fare questo video tanto lungo adesso io metto il muto una musichina bella insomma per accompagnare tutto vi faccio vedere tutte queste acconciature iscriviti al canale grazie a tutti 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 grazie a tutti